Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo tutorial vi mostro come preparare la farcitura per la Red Velvet. Questa preparazione è per intolleranti al lattosio. Per questa ricetta occorrono i seguenti ingredienti. Latte di capra, farina, zucchero a velo vanigliato, estratto di vaniglia, burro e del lattosato. Vediamo ora come prepararla. In un pentolino verso la farina e aggiungo il latte pian piano. Mescolo cercando di sciogliere i grumi. Aggiungo ancora il latte e porto il tutto sul fuoco. Il fuoco deve essere basso. Continuo a mescolare finché non sono scomparsi tutti i grumi. Cambio strumento e passo a un cucchiaio di legno con il quale procedo sempre mescolando finché la crema non si addensa. Quando la crema avrà raggiunto la giusta consistenza, spengo il fuoco, prendo un piatto basso e la verso. Dovrei ricoprirla con della pellicola a contatto. Non avendo la pellicola sto utilizzando la carta d'alluminio. La crema deve raffreddare a temperatura ambiente. Mentre la crema si raffredda, passo alla preparazione, alla composizione proprio della nostra farcitura. In una ciotola capiente ho inserito il burro del lattosato già ammorbidito e è stato tirato fuori dal frigo due tre ore prima di iniziare a lavorare. Con delle fruste elettriche procedo a montarlo. Pian piano aggiungo lo zucchero avvero vanigliato e monto il tutto. Aggiungo poi l'estrato di vaniglia e continuo a montare. Fino a finire tutti gli ingredienti. Fino a finire tutti gli ingredienti. A questo punto la nostra crema sarà ben fredda. Procedo aggiungendola pian piano al composto di zucchero e l'estrato di vaniglia, montando sempre con le frutte elettriche. A questo punto la nostra crema sarà ben fredda. La farcitura è pronta per essere messa in frigo e deve riposare per una mezz'oretta circa, prima di essere utilizzata. Con le quantità che vi ho inserito nell'info box può essere farcita e rivestita una torta del diametro di 20 cm. grazie per aver guardato i miei video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, aspetto i vostri commenti, vi lascio un link ai miei canali social e ai video precedenti. Ciao, a presto! Ciao! Ciao!